Allora, partiamo dalle enoplasie delle vie biliari, soprattutto, vabbè, trattiamo quelle extrepatiche ovviamente, che sono calcoli della colecisti, calcoli vie biliari, coledoco, ampolla di vater, o meglio di fater e via dicendo. I fattori di rischio quali sono? Sono la calcolosi del coledoco e della colecisti, la colangite e i polipi della colecisti e la cirrosi. Il cancro della colecisti è un cancro che solitamente si presenta sotto forma di un adenocarcinoma ed intacca soprattutto le donne. Può essere associata a calcolosi, a colecistite, a polipi e via dicendo. Di solito si manifesta in un'unità avanzata e purtroppo ha una proniosi in fausta. Molti di questi pazienti, anzi, molte di queste pazienti purtroppo hanno una percentuale di sopravvivenza bassa. Di solito dal punto di vista clinico viene visualizzata per esempio durante una colecistectomia, quindi di riscontro occidentale possiamo dire, è delocalizzato a livello del quadrante destro superiore se palpabile e quando è palpabile si vede proprio come una massa negli stati più avanzati. Dal punto di vista anatomopatologico questi tipi di carcinomi possono avere una diffusione molto rapida, per tale motivo anche sono fortemente maligni e di solito le metastasi quali sono? Ovviamente per contiguità troveremo il fegato, a livello linfonodale abbiamo linfonodicistici, a livello invece celomatica il peritoneo, il programma qui mi ha corretto per idoneo, vabbè, tralasciamo. Poi stadiazione di Nevin che invece è una stadiazione molto importante perché mi permette di capire come si comporta. In questo caso io uso un acronimo un po' per ricordarmi come è questo tipo di stadiazione. Prendo delle iniziali, mu, muso, paleme, è un acronimo cioè mucosa, muscolare, sottoserosa, parietale, letto epatico, metastasi. Mu sta per mucosa, mu sta per muscolare, so per sottoserosa, pa per parietale, le per letto epatico, me per metastasi. Quindi è un po' un piccolo vecchio trucco. Ok, per quanto riguarda invece questo tipo di stadiazione, invece la stadiazione T, ovviamente è quella utilizzata nel TNM e in particolare una stadiazione in cui abbiamo un'idea di quella che può essere anche il modo in cui infiltra questo tumore. T, I, S, in situ, 1A, lamina propria, 1B, tonaca muscolare. Poi abbiamo la T2 fino alla sottoserosa, T3 fino agli organi mediacenti, quindi il fegato e il duodeno, tant'è che anche gli anglosassoni lo chiamano hepatic stage, e poi abbiamo la T4 invece che riguarda l'arteria apatica e la vena porta. Come si fa la diagnosi? Si fa con l'eco, la tac, con la biopsia ovviamente, la rmn, la cpr e la ptc. Il trattamento può essere fatto senza sospetto preparatorio o con sospetto preparatorio, abbiamo queste situazioni. Partiamo dal senza sospetto preparatorio, se c'è una neoplasia diffusa, ovviamente c'è poco da fare, posso fare una terapia palliativa, la biopsia per vedere il tipo di carcinoma si tratta. Di solito c'è poco da fare purtroppo. In quella localizzata invece posso cercare un po' di migliorare anche la situazione andando a fare un intervento per via laparoscopica, una colegistectomia e anche un'eventuale resezione epatica. Mentre se c'è un sospetto operatorio, posso fare nei pazienti con ittero uno stento biliare, quindi se poi il tumore è localizzato si fa una chirurgia appunto per andare a rimuovere per esempio la colegisti, più o meno le sezioni epatiche possono essere tolte, dipende sempre da come il tumore sarà avanzato, mentre se è particolarmente avanzato, quindi sta di più a proniosi negativa, si fa un trattamento palliativo. È lo stesso in assenza di ittero. Parliamo del tumore di clatskin o colangio carcinomelare. È un tumore di tipo infiltrativo nodulare o papillare. Se noi immaginiamo dove si viene a formare, dobbiamo immaginare un po' una Y, cioè le due appunto gambette della Y sono il dotto epatico di destra e di sinistra e la gamba unica della Y sarà ovviamente il dotto epatico comune. Si viene a creare in diverse posizioni. Si crea una vera e propria stenosi data dalla neoplasia stessa. Se il tumore si localizza, immaginiamo nell'unica gamba della Y, in una porzione più distale, quindi almeno 2 cm, allora la classificazione sarà di tipo 1. Questa classificazione, spoiler, si chiama classificazione di Bismuth Corlett. Se invece abbiamo una classificazione tipo 2, sempre sulla gamba della Y, sulla gamba unica, troveremo sempre una neoplasia che crea una stenosi, in una porzione però già a 2 cm dalla confluenza del dotto epatico comune verso i dotti epatici di destra e di sinistra. Nella 3A troveremo interessato sia il dotto epatico comune che il dotto epatico di destra. Nella B sia il dotto epatico comune che il dotto epatico di sinistra. Nella C invece sia il dotto epatico comune che entrambi i dotto epatici di destra e di sinistra. La diagnosi e la stadiazione, vabbè, si fa con l'RCP, che sarebbe la CPR, la coletocoscopia, l'intraductal sound, la PET e via dicendo. La stadiazione invece con la TAC, la risonanza magnetica e l'ecografia. Dal punto di vista chirurgico posso fare una resezione, quindi un trapianto di fegato, però devo tener conto che solo il 5-20% dei tumori sono operabili, quindi di solito c'è poco da fare, la sopravvivenza è molto bassa come vediamo. Tra le terapie che possiamo fare ci sono gli stenti metallici o di plastica, in uno entrambi i dotti, oppure diciamo, di solito non ci sono altre alternative e si può fare per via radio o per via endo. Le controindicazioni ovviamente sono date dal fatto che lo stente può migrare, si può avere addirittura un ulcere radiodennale e sangue e melena. Infine abbiamo il calcro del coletoco, che invece si manifesta nei maschi giovani, sempre siamo di fronte ad un adenocarcinoma e troveremo una clinica, a parte la sintomatologia tipica di un dolore alla colecisti, con perdita di peso, itero e dolore addominale. Dal punto di vista della diagnosi invece si fa una CPRE, una PTC, una RMN per valutare la diffusione a livello della tonaca sottomucosa e se i vasi sono più o meno intaccati. Tra la chirurgia sempre si fa lo stente biliare e la resensione chirurgica.